Le eccellenze di Belosaria non finiscono mai, siamo a parlare di cioccolato con la cioccolateria, come la chiamiamo? Cioccolateria, come la chiamiamo? Fabbrica di cioccolato come il film, Bardini di Piacenza, siamo con lei, come si chiama? Graziano Balduzzi. Graziano Balduzzi. E guardate che meraviglia che cioccolato. Io mi sono fermato perché ho visto una cosa che non conoscevo ancora, magari sono io che ho perso un pezzo, una gelatina di frutta e ricoperta di cioccolato. La prima cosa che mi ha colpito. Voi da quando producete cioccolato e pralina come graziano? L'azienda nasce nel 1940, quindi ha una lunga storia nel cioccolato. A Piacenza abbiamo fatto la storia del cioccolato piacentino perché siamo l'azienda più antica sulla città di cioccolato. Il nostro prodotto più conosciuto è il graffione, quindi un cioccolatino con il cuore di ciliegia, simile al Guero, però con un tocco e con una marcia in più. E a Colosalio siete per la prima volta? Sì, siamo arrivati per la prima volta. E come ci siete arrivati? Erano tanti anni che volevamo venire e quest'anno siamo riusciti a esserci e ci siamo una bellissima manifestazione. E com'è la specialità? Mi ha detto che si chiama? Graffione. Assaggiamolo questo graffione. Dov'è? Vediamo il graffione della Bardini. Eccolo qua, vedete? Anche una packaging elegante. Ora lo assaggiamo in diretta di fronte al proprietario, quindi non potrò dire... Io se non mi piace lo dico, mi sa che mi piace, però vediamo. Quella ha la caratteristica di essere una ciliegia intera con il nocciolo, quindi prendiamo tutti gli aromi della ciliegia e li amalgamiamo.